La celebre English Chamber Orchestra, diretta dal maestro Zuckerman, protagonista del penultimo appuntamento della stagione concertistica retina. È un'orchestra storica, un'orchestra con decenni di storia, è un'orchestra che ha fatto una storia importante della discografia musicale ed è un'orchestra che è riconosciuta in tutto il mondo, ma soprattutto in Inghilterra, come un punto di riferimento per un certo tipo di musica. Il maestro Zuckerman, protagonista sul palco del Teatro Petrarca anche nei panni di violinista e violista con il contributo al violino del direttore artistico della Rassegna Giovanni Andrea Zanon. In ogni frase c'è qualcosa di nuovo, in ogni nota c'è qualcosa da imparare, per cui sono quei musicisti che hanno fatto la storia per la loro conoscenza della musica, per la loro visione della musica e poter rimparare un po' di questo sapere è veramente qualcosa di speciale. Protagonisti del programma tre fra i più straordinari capolavori della musica concertante nati dalla creatività di Bach e Mozart. Inizieremo con il concerto per due violini di Bach, poi ci sarà il concerto numero 5 di Mozart per violino e orchestra e poi la celeberrima sinfonia concertante per violino e viola di Mozart.